Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come avete potuto leggere dal titolo, oggi parleremo di un argomento molto scottante. Carissimo governo! Nel caso in cui ci stessi ascoltando, questo è un video per te. Io sono Giorgia! Sono una donna! Sono una madre! Sono italiana! Sono cristiana! Come sappiamo, l'industria della carne ha un impatto molto, molto importante sul nostro ambiente. Dallo sfruttamento delle nostre terre, fino appunto all'immissione di CO2 in atmosfera. Grazie all'evoluzione delle biotecnologie, si è riusciti ad arrivare a un punto tale che noi riusciamo a coltivare la carne. Quindi, biotecnologicamente parlando, qual è la differenza fra la carne tradizionale e la carne cosiddetta sintetica? La sostanziale differenza è che la carne sintetica in origine non è viva, perché come viene prodotta? È prodotta in laboratorio attraverso una cultura di cellule minerali, che vengono poi fatte crescere in un ambiente controllato e successivamente daranno a formare tessuto muscolare. Questo ci fa capire quindi qual è effettivamente la sostanziale differenza fra i due tipi di carne. Perché la carne cosiddetta tradizionale deriva appunto dall'allevamento degli animali e da insegurare la loro macellazione. Mentre la carne sintetica è un prodotto di laboratorio che è biologicamente e batteriologicamente totalmente identico alla carne tradizionale. Come ogni processo industriale, questo ha un proprio trade-off. Che cos'è il trade-off? Semplicemente una lista di vantaggi e una lista di svantaggi relativi a un determinato argomento. Quindi ora andremo a parlare molto più nello specifico di una serie di vantaggi e una serie di svantaggi di questa cosiddetta carne sintetica. Il principale vantaggio della carne sintetica, che dopo tutto è anche quello che volevano i suoi progettisti, ovvero i biotecnologi, è quello di avere un prodotto che ha un impatto ambientale molto più basso rispetto all'attuale carne. Questo perché innanzitutto vi è un taglio rispetto all'attuale impatto ambientale dell'allevamento intensivo degli animali e anche della loro macellazione e del trattamento degli scarti dei resti animali. Inoltre questo è un processo che è anche efficiente dal punto di vista energetico perché si richiede una superficie di terra molto inferiore rispetto a quella attualmente dedicata agli allevamenti. E questo non è una cosa da poco perché un risparmio energetico ci dà anche la possibilità di andare ad implementare su bassa scala la cultura di carne sintetica e di poter risolvere anche la problematica del sovraffollamento della terra. Perché man mano che il numero degli abitanti della terra aumenta non ci saranno più le risorse naturali per poter permettere un'agricoltura e anche un allevamento di bestiame tale da soddisfare la richiesta di carne nel mondo. Ovviamente la lista di vantaggi non si riduce qui è ancora altamente lunga e Simone ci continuerà a parlare di alcuni tipi di vantaggi. Un primo vantaggio è sicuramente quello del benessere degli animali. Infatti questa produzione di carne coltivata ovviamente implica che l'animale non deve essere macellato e quindi evita tutta una serie di stress e diciamo di uccisioni legate alla lavorazione della carne del bestiame stesso. Il vantaggio sicuramente è quello del controllo della qualità della carne prodotta. Infatti essa essendo coltivata in laboratorio è sotto stretta sorveglianza con determinati parametri ambientali e quindi questo può ridurre sensibilmente l'attacco di batteri o malattie garantendo al tempo stesso qualità e sicurezza. La carne sintetica può essere progettata con determinati nutrienti, una certa quantità di grassi saturi, una certa quantità di colesterolo e altre sostanze che possono essere in un certo senso controllate. L'allevamento intensivo di bestiame e animali in generale purtroppo richiede delle dosi molto massicce di antibiotici e fitostimolanti. Quindi in sostanza la carne coltivata non ha bisogno di questi antibiotici il che ovviamente è una cosa molto molto importante. Poiché aggira l'immissione di questi ultimi nel nostro organismo. E come abbiamo detto anche già prima un altro grande problema è quello dovuto all'impatto ambientale. Infatti con la carne sintetica possiamo andare ad evitare anche la deforestazione di ettari ed ettari di foreste che vengono strappate dalla natura per trasformarle appunto in allevamenti oppure per poter retrare le risorse dovute all'agricoltura necessarie per sfamare gli animali. In sintesi quindi questa è una carrelata di tutti i possibili vantaggi della carne sintetica che debbano appunto avere un ottimo impatto sia per quanto riguarda quello ambientale che quello sanitario e soprattutto nutrizionale. Perché noi in questo modo possiamo andare proprio a manipolare i macro e i micronutrienti presenti all'interno della carne andando anche a diminuire la presenza di colesterola HDL e tutte quelle sostanze che sono dannose per il nostro organismo. Ovviamente non ci sono solo dei vantaggi ma vi sono anche alcuni svantaggi e adesso li andiamo a guardare insieme. Il primo svantaggio è radicato proprio nella nostra cultura. Infatti da secoli e secoli noi abbiamo la convinzione che sintetico, artificiale o chimico sia praticamente equiparabile a dannoso, a tossico eccetera. Ragazzi mettetevi bene in testa una molecola sintetica o carne sintetica è prettamente uguale chimico fisicamente e a livello di macronutrienti identica ad una sostanza naturale. Anzi molte sostanze naturali sono tossiche per l'uomo. Vedete la bella donna cosa fa? O la cicuta? Socrate ne sa qualcosa. Inoltre c'è una costante preoccupazione riguardante la sostenibilità economica di questo progetto. Infatti allo stato dell'arte odierno la produzione di carne sintetica è comunque molto molto costosa. Quindi come ha detto Gerasimone uno degli svantaggi più elevati è proprio quello dei costi di produzione. Infatti attualmente produrre una carne sintetica o da laboratorio è molto più svantaggioso economicamente parlando della produzione della carne tradizionale. Questo perché il processo della filiera di produzione è talmente controllata che deve rispettare anche alti standard di qualità e sicurezza umana e di conseguenza la rende molto più costosa rispetto alla carne tradizionale. Noi ovviamente ci auguriamo che facendo sviluppare questo tipo di tecnologia anche i costi scendano proporzionalmente all'aumento del suo utilizzo. In conclusione quindi si può dire che i svantaggi superano quasi del tutto i svantaggi. Ovviamente la tecnologia deve essere ancora implementata, deve essere brevettata e soprattutto deve essere standardizzata perché si deve arrivare a un miglioramento del progetto energetico, a una sicurezza alimentare e a un controllo qualità estremamente alto per poter andare a superare del tutto i svantaggi attualmente presenti. E voi invece cosa ne pensate? La carne sintetica può effettivamente rappresentare una soluzione alla sostenibilità alimentare? Fatelo sapere lasciando un commento, iscrivetevi qui sotto sul tastino che sta proprio qui sotto, attivate la campanellina. Ragazzi a voi non costa nulla ma è di fondamentale importanza. Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima!